Gentili amici ascoltatori, buon pomeriggio a tutti da Stefano Tini. Prova microfono, sa, sa, prova microfono, prova, prova microfono, prova, prova microfono, 1, 2, 3, sa, prova, prova microfono, prova, 1, 2, 3, sa, prova, prova, prova. Allora proviamo a mandare Basilio Villari, vediamo se Basilio riusciamo a sentirlo così. Caro Stefano, buongiorno a te e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Stap si torna al passato. Facciamo un'edizione diciamo straordinaria in maniera un po' anomala della nostra striscia del lunedì riferito alle competizioni della Formula 1 e qualquant'altro e in quanto sui problemi tecnici facciamo vari interventi. Per cominciare diamo la precedenza al grande Mick Schumacher, il figlio di Michael, che sabato scorso con il secondo posto nella seconda cara di Jögenheim si è laureato campione europeo della Formula 3. Ok, fermiamo, fermo, prova, prova, sa, prova, prova, sa, prova, prova, sa, prova, prova, vediamo un po', prova.